Siamo qui con la squadra del... Granita! Di chi è nata? 2008! Che ha appena disputato una partita con la polisportiva Lame, se non ho capito male, che mi sembra che sia andata molto bene. Bene, veniamo a vedere un attimo cosa è successo. Ciao, tu come ti chiami? Mattia. Che ruolo giochi? Alla destra o sinistra. Com'è andata la partita di oggi? Secondo me è andata bene. Qualcosa da segnalare, azioni particolari, cose che ti sono piaciute? Niente, tutto bene. Ciao, tu chi sei? Giacomo. Giacomo, che ruolo giochi? Alla sinistra. Alla sinistra. Tutto bene oggi? Sì. Ti è piaciuta la partita, sei soddisfatto? Sì. Molto bene. Ciao, tu chi sei? Tommaso. Tommaso. Che ruolo giochi? Centrocampista centrale. Centrocampista centrale. Oggi è andato tutto bene, hai smistato bene il gioco, hai proposto. Sempre a testa altri centrocampisti centrali, mi raccomando. Sì. Ciao, tu chi sei? Io sono Samuele, gioco difensore. Sì. Oggi abbiamo fatto una partita bellissima, abbiamo vinto 4-0. Dopo l'ora quando lo chiede al mister, il mister è d'accordo. Sì, siamo soddisfatti. Molto bene, questo tassi è cominciato benissimo. È cominciato benissimo e abbiamo avuto molta sfortuna. Sfortuna addirittura? Sì. Sì, sì. Ciao, tu chi sei? Andrea. Andrea. Che ruolo giochi? Centrocampista centrale. Centrocampista centrale. Partita meravigliosa, siamo contenti. Scusatemi, quanti gol avete fatto oggi? Quattro. E chi li ha fatti questi gol? Una, io, una, io. Allora, adesso andiamo. Uno, Andrea. Quale? Il? L'ultimo. L'ultimo. Quindi vi manca una fascia da capitano. Qua sei capitano tu oggi. Sì. Grande, capitano. Il segnato, avete vinto, fantastico. I due portieri oggi, reti inviolate, portieri. Sì. Eh? Tu come ti chiami? Mattia. Mattia. Tu? Lorenzo. Quindi oggi diciamo portieri poco utilizzati. Sì. Bene. Ciao, tu chi sei là di dietro? Nicolò. Nicolò. E che ruolo giochi, Nicolò? Difensore. Difensore. Oggi è andata bene, avete difeso bene la vostra porta. Ciao, tu chi sei? Andrea, alla sinistra o alla destra. E hai fatto anche gol? Perfetto. L'inizio stavamo andando un po' male, ma anche se stavamo giocando. Poi però è andata bene. Eh, ho capito. Prego, avanti gli altri. Ciao, chi sei? Francesco. Francesco. E che ruolo giochi? Attaccante. Attaccante? Oggi hai fatto gol? Sì. Perfetto. Siamo a tre gol. Tu chi sei? Filippo. Filippo. Eh, l'ho sentito dire alla fine, bravo Fillo, sei tu quello che ha fatto gol. Molto bene. Sei soddisfatto? Molto. Quindi stai entrato e hai messo il sigillo sulla partita. Che ruolo giochi tu? Eh, tre quartista. Tre quartista. Quindi, perfetto, è andata benissimo. Tu invece? Alessandra. Bene. Sei contento di questo risultato? Sì. Di che ruolo giochi tu? Destra. Molto bene. Ragazzi, vi ringrazio, vi saluto. Ciao! Ciao! Ciao!